quasi gaming stagione 3 la ribellione un cardo che si stianta e tiris maxi io c'avevo una mezza idea di mettilo subito titolare perché secondo me questo ci può le dare quell'imprinting capito in attacco poi però ho detto nella realtà è buono in cina va visto e quindi prima no gli diamo dei minuti dalla panchina quintetto con 30 minuti di di jonte marra in napo orso io lo so napo napo orso capo io lo so che te ti in capo quadrirai perché lo vedo proprio alla faccia però settimana scorsa ti hai giocato troppo bene bisogna che ti metta titolare zuckerberg titolare con pochi minuti perché bisogna sfruttare l'inerzia di tu cosa la manca dalla panchina jaren jackson jr andre drammond e poi maxi torna sull'onda sulla scia dell'entusiasmo dell'uscita ai cinema top gun 12 minuti e poi tu cosa la manca 36 anzi minuti e poi i gemelli del destino si gioca fuori casa e è una partita che sulla carta comincia a essere importante si torna ai capitalone arena e è importante perché ne manca sempre meno siamo entrati nell'ultima decina nell'ultimo quarto di stagione la matrice accorciata vari ed eventuali e ora le giornate cominciano a farsi interessanti bada come si streccia jaren jackson jr nettamente miglior difensore di gioco ma perché è arrivata la scritta di tem chi è che ha tirato mentre c'era la presentazione e i cinesi ci ha tenuto a far sapere che era smarcato e senza pressione non lo so questi sono i quintetti loro c'hanno slomo attenzione a slomo slomo anderson potrebbe essere un giocatore che capito io tutto sommato lo vorrei aveva avuto da dalla nostra invece che dove ci gioca contro questo è capitato prima di cominciare però come al solito una e una sola parola visuale dai latino visualis letteralmente come buttare 80 euro all'anno ai cinesi zuckerberg e sei bello è rimasto indietro rispedito a immittente da andre drammond zuckerberg e sei presente tu cosa la manca come indignosito dalla panchina e facciamo a capirsi è la sua è la sua in uscita dai blocchi dalla media jaren jackson jr 2 a 0 poi ma poi va a aiutare hai perso in velocità uno che viene chiamato slomo una roba che 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 manco aldo biscardi con la moviola in campo ci sa un mismatch ci sa un mismatch ma c'hai capelli è napo orso capo che difensore si è fatto pigliare il rimbarzo a wendell carter jr ma veramente eccola eccola la ricezione profonda jaren jackson jr e da quando è marcato da slomo fa anche più canestro questo tutto sciancato sbiciancolato come andomettola drammond drammond io non te lo devo neanche di come deve finire quest'azione forza drammond attenzione attenzione a napo attenzione a napo carmelo 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 ti ha staccato un braccio carmelo un braccio ma ma se lo chiamavano il miglior difensore di gioco un'eramica trinità e ci sarà un motivo bella palla pedramond che pieghi ferro 6 2 loro tirano con delle percentuali che manco gianni morandi vedi quello è il famoso nothing phone di harl pay amici capitolini posso dire che che pare un tacchino però la mascotte si poteva fare qualcosa di meglio si è fatto dei gambi e roba da chiodi dentro contemporaneamente tutti quintetto come jasmine inrepe già quindi maxi toppe ganne tuo e i gemelli del destino questo è un quintetto particolare secondo me ci può dare delle soddisfazioni potremmo soffrire un po' difensivamente perché siamo più lenti però siamo arti talmente arti che non si finisce mai clarkson che prova subito a attaccare contro toppe ganne che tiene uno scivolamento due scivolamenti poi gli tira una lacca piglia il rimbarso bravo toppe ganne gestisci anche subito la mezza transizione proviamo a innescare tyrese ma attenzione attenzione arresto e tiro da la e il primo dentro comunque o 8 a 2 un inizio e manco designated survivor primi due minuti e beh è successa tutta la serie piano piano tyrese portalo su quello arto che è arto è arto e lo stoppa i gemelli del destino taho full appena entrato dalla panchina attenzione ci si pole distendere tyrese al primo tiro tyrese e se oh 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 ma subito così verde con leggero step back tyrese maxi secondo me te non sei un play manco se rinasci ma secondo i cinese si 11-2 però eccoci quello appunto i green screen verde sui blocco eh piano soppe piano soppe non ne io capisco eh purtroppo da quando è uscito il firme lui non fa prigionieri quello che tocca è quello che indirizza verso il canestro va un attimo ridimensionato bada Tujo che capo di difesa lo porta nell'angolo lo va a sbagliare gli tira anche un nocchino va bene Tujo ultimi 10 secondi del primo quarto Tujo Salamanca in palleggio trovato dentro Bol Bol un passaggio immaginifico la lettura limpida di Tujo Salamanca i più 9-13-4 attenzione attenzione sei arto sei artissimo i gemelli del destino Bol Bol ora non chiappiamo tre punti con un seconde otto dalla fine perché perdi cervello eh forza 13-4 quattro punti gli sei fatto fa se caschi di biciretta te mettan di più allora sono tornati i titolari più Tujo Salamanca quindi questo di fatto è il nostro quintetto Bono e si è chiappato canestro di capo da Wendell Carter Junior ragazzi bisogna provare a innescare Nafo perché è il nostro miglior realizzatore Nafo Orso Capo secondo Ferro c'è del capo quadrismo codesto 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 boh buono boh vedi il close out però con tanto di capelli di Nafo Orso Capo va bene da quando c'è Tujo sono tutti più tignosi tutti più aggressivi ci si perde Wendell Carter Junior si torna da Alli Burton portato su Drummond la ripiglia Nafo in difesa siamo uno spettacolo ragazzi in difesa poi in attacco vedi ma in difesa il dottor Cortex tuppai il slomo quello di Crash comunque non mi disgarba questa versione più offensiva di Jaren Jackson Junior 15-6 ragazzi ragazzi veramente veramente non scherziamo è cardo poi mi sale la pressione capito Tujo ancora in palleggio una visione per Dejonte Murray che poi rientra in un rigirio di cazzotti di sotto e la metà avanzava e Canestro non lo fa e i fallo non ce lo fistiano ma va bene questa è l'intensità questa è l'energia giusta Napo in difesa contro Giriu Holiday nell'angolo Aliburton ce lo siamo persi verde 3-6 è un mismatch è un mismatch sei grosso sei arto Jaren Jackson Junior 8-3 su 4 Zion cinese manco se faceva merenda con i doping ma è un giocatore onestamente tutti in piedi per Tujo Salamanca altri due di Jackson Junior non c'è andare non c'è andare non c'è attaccare bravo hai fatto i gamber all'indietro perché se andavi dentro era finita sono tornati a meno 8 eh dalla lunga dalla lunga giochiamolo meglio questa mezza transizione c'era Drammond davanti a tutti da mezza giornata se c'era Tujo sai che pallone gli dava Magic Tujo da Salamanca questa invece è tutta la panchina senza Tujo Salamanca bella palla di Tyrese Maxi per Top Gun si ritocca i più 10 di vantaggio il problema è che c'è Zuckerberg tra l'altro moglie di Zuckerberg è Faccian eh di cognome americana ma insomma sarà un caso eh cinese attenzione attenzione Top Gun è on fire Top Gun come Belinelli oh vedi vedi spalla contro petto t'hai difeso bene Zuckerberg non ci si meritano questi tre punti quanto sei harto boll boll siamo avanti di 10 siamo negli ultimi qui attenzione 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 perché c'ha più attenzione perché mi rendo conto che non sembri però ci avrebbe a più di tiro da tre punti mancano 7 secondi Top Gun esce dai blocchi Tyrese Maxi dovrà forzare toppe ganne sulla sirena ha cercato la tabellata avanti di 10 no 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 ma una tassa sulla liuppe si vuole mette più te arzi pallone più io abbasso lo stipendio Napo cambia cambia Napo difensore Napo Napo comunque difensore sottovalutatissimo arcignissimo in difesa arresto e tiro dalla media come Dan Peterson ma Dejan De Marra gioca per quell'altro guardalo guardalo ha fatto schifo in attacco però è bello attivo capito è bello pronto è bello vitale mi sta garbando na Zuckerberg ma veramente hai fatto ma Zuckerberg ma cosa hai perso palla gli hai fatto il fallettino e te la rifai o Carmelo anche il pubblico ti doveva fischiare non solo lui purtroppo ragazzi questo questo è una roba che te non ci puoi veramente avere niente a che fa sono tornati a meno 7 ci avrebbe un vantaggio ci avrebbe un vantaggio fisico sarebbe grosso Jared Jackson Junior Napos avrebbe bisogno della sua inventiva della sua verva attenzione attenzione c'ha più finalmente verde Mark Zuckerberg più 12 allora ora è tornato quello buono la situazione si fa interessante gli hanno messi subito due in il capo ragazzi ci sa in campo in questo momento ah no non è Maxi è ancora Napo quindi niente non l'ho ancora visto il doppio play Maxi Dejounte Murray dentro peggiare in Jackson Junior che si svita l'appoggia se la fa pigliare da Wendel Carter Junior ma così eccoci eccoci uno che si pigliava e si buttava all'indietro mi era mancato comunque ha fatto canestro sta giocando bene più 8 addirittura 28 19 e sei harto ma sei Wendel Carter Junior e quello è tuo salamanca ma ti pareva che gli potevi fa canestro comunque comunque Jaren Jackson Junior è il leader di deflection difensive è giocatore allucinante in campo Ci danno una prestazione guardalo 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 e poi pulisce il rimbarzo che giocatore tremendo ragazzi con karma mancano gli ultimi due minuti del terzo quarto purtroppo noi ci sa Dejounte Murray peccato perché se aveva uno e poteva sopravvivere o il pallone tra le mani forse questa partita sarà bella e vinta De Mard e Rosan provano a fargli il tentativo di blocco pare a un birillo di bullying eccolo in uscita dai blocchi riceve Tyrese arresto tiro da tre punti importante dentro e fuori la tocca Taho la piglia Portis o sta a vedere come si perde noi questa partita io l'ho bella e vista attenzione attenzione perché è harto c'è la galletta sotto canestro Portis contro Taho Foll prova a farsi vedere Clarkson rimane indietro Maxi ancora la penetrazione rinviene tu però che gli dà noia e poi due volte e poi recupera che giocatore è come la gramigna è un'erba infestante dappertutto come l'ha accusata il cattivo di Spider-Man intasare l'area chiudere le penetrazioni oeeh l'ha preso l'ha preso non c'è niente da fare attenzione perché gliela rende attenzione perché gliela rende attenzione perché gliela rende i gemelli del destino Taho Foll forza ragazzi sull'inerzia sul momento dell'entusiasmo c'è Tope Gun in palleggio ultimi dieci secondi del terzo quarto si fa vedere Tyrese Maxi c'è un vantaggio come hai fatto come hai fatto Taho Foll rimbarso un attacco schiacciata ultimi tre secondi gliela rendi ancora niente si chiude avanti di nove Taho show in chiusura di terzo periodo e giustamente Kerr ha detto sai e io piglio e lo levo si starà a vedere è rimasto invece Tyrese Maxi che fa gara di capigliatura con Napo Orso Capo dall'altra parte poi c'è Jaren Jackson Jr Zuckerberg e Dramond per chiudere il quintetto attenzione a Napo attenzione a Napo potrebbe iscriversi alla partita trova Jaren Jackson Jr che giocatore abbacinante che succede le batterie di controller sono scatti capito Xbox ti sembra normale Xbox mentre Napo è andato via sulla virata che nel 2022 tu faccia un controller che va a pile eh a pile l'orologio della San Montana che avevo io da piccino andava a pile ma era all'anni 90 a pile giù perché contro Chiorba ce la farai a difende secondo me neanche contro Chiorba pensa a un mese messo Chiorba è avvocato eh si difende da solo non so convintissimo di questo piccheroll perché non ci ha mai portato quasi nulla stavolta va bene i primi due credo di De Jong Temarra i più dodici però ragazzi a me guarda guarda anche stavolta l'ha portato sul difensore poi ha recuperato il pallone non ha fatto mai canestro il poro Napo però mi è garbato fondamentalmente il suo ha provato a tirarlo fuori anche in questa partita poi piglia coraggio che ha un ringollone che nemmeno comunque Jaren Jackson Junior ti dà una mano anche sull'aiuto e recuperi cioè un difensore a 360 gradi vorrei dire lo stesso dei poro Mark Zuckerberg ma evidentemente lui ci aveva da fare l'algoritmo ci aveva da vendere la dignità sui marketplace eh ragazzi eh ragazzi quando c'hai ha più di rimbarzo d'attacco o sei De Marco Johnson o Andre Drummond eh eh fondamentalmente questa partita si vuole soltanto perdere noi tipo cominciare a passarla nelle mani proprio direttamente di quell'altri eh Jaren Jackson fortuna che c'è Drummond piano Zuckerberg manca due minuti siamo avanti di dieci ma 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 sei proprio scansato come il torero oh 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 la prima cosa buona di De John De Marry ma cosa state facendo ma a quale gioco state giocando il telefono senza fili se fosse possibile visto che manca un minuto e dieci se ci si facesse a non far più canestro potrebbe essere quasi utile Napo non l'hai fatto per tutta la partita volevo dire perché magari gli si darebbero due estrazioni di meno visto che dubito e in un minuto loro possano recuperare dieci punti può capitare di tutto perché c'è Carmelo me ne rendo onto ma insomma ecco io proverei a servire Zuckerberg che così siamo sicuri che canestro non si fa beh bene bene tentativo di Ali Hoop mi sembra buona considerando che sull'Ali Hoop sa una probabilità di successo che manco gli Washington Generals comunque loro ci stanno credendo hanno chiamato anche Time Out forza forza rimbarzo di Taho che chiude definitivamente i conti non tiriamo non tirare Tyrese Maxi anche per rispetto nei confronti dei nostri avversari si è vinto e siamo fermi a 39 oh è andata bene 23% gli si è concesso 2 su 16 da 3 punti ci hanno anche dato una mano miglior realizzatore della partita a quota 17 è un sorprendente Jaren Jackson Junior nei rimbarsi ho belle visto che non c'è storia ce ne sono 14 di Andre Drummond negli assist 4 di Dejount e Murray nei recuperi un po' di gente a quota 2 Jaren Jackson Junior Slomo e Wendell Carter Junior e nelle stoppate ce ne sono 3 di Taho Fall e allora una vittoria che rilancia le nostre ambizioni va detto perché è la seconda in fila so altri 34 punti si va avanti di quasi 80 punti che so tanti neanche tantissimi perché se loro vincano la prossima ne pigliano 35 per 2 70 quindi comunque risolì ancora la cosa è lunga però intanto si è superato il 55% di record nelle classifiche individuali poche novità se non il fatto che Drummond si avvicina pericolosamente alla coppia di testa nei rimbarsi e Dejount e Murray ha richiappato McConaughey e Holiday nella classifica degli assist si comincia a vedere anche Jaren Jackson Junior il fatto è che loro che hanno perso e ci hanno fortunatamente soltanto 3 per 2 quindi 6 estrazioni noi 3 6 e 3 so poche che abbia succedere la fine di mondo ecco lo sapevo io che dovevo stare zitto e allora dai su è andata male perché è andata male però tutto sommato se mi avessero detto bada che loro pescano 3 silver mi sarei preoccupato molto di più eh perché comunque insomma l'onzo se lo vogliano tenere devono liberare Drew Holiday si starà a vedere secondo me a noi ci non verrebbe Wiggins pure se lo vogliano tenere devono liberare DeRozan se fosse pescato noi Wiggins al posto di Poro Zuckerberg ma non si è pescato e poi ci hanno i Power Rangers i Power Rangers potrebbero secondo me anche farci un pensiero al posto di di Ali Burton vediamo vedremo e cosa faranno di qui a settimana prossima noi ma c'è Kevin Love allora Kevin Love un pensierino ci si potrebbe fare più che altro perché sono due grandi del passato no cioè io tutto sommato penso che vi aprirò un bel sondaggio tra Carmelo Anthony no Paternico e Kevin Love per decidere chi rimane in squadra chiaramente per il momento nel reparto dei lunghi minuti non ci sono però man mano che ci si avvicina al finale di stagione no ci sono dei giocatori che segnatamente dovrebbero guadagnare spazio e quindi ci sarà spazio anche eventualmente per uno dei due non lo so vediamo fatemi sapere come gestireste anche la formazione sinceramente Tyrese Maxi non l'ho capito che pesce è quindi non so che fare si potrebbe riprovare lo sbullonato che sicuramente aveva giocato meglio di Top Gun e poi secondo me più o meno più o meno ci siamo settimana prossima sarà la numero 35 ciò significa che mancano sei giornate sei partite sei settimane po' più di un mese alla fine di campionato di un mese di un mese di un mese Grazie a tutti.